Niente baci dalle Miss e neppure tradizionale spumante per festeggiare la vittoria nella gara ciclistica. A far la richiesta è stato Omar Hamid, atleta del Vittoria Cycling Team Pedale Biellese, che ha tagliato per primo il traguardo di una gara categoria allievi a Rivara. Noi siamo di fede musulmana e quindi siamo contro l'alcol e il bacio delle Miss, ha spiegato il padre del giovane campione. E non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, tantomeno alla nostra fede musulmana, quindi preferisco che mio figlio si astenga da questo rito. E così, per esaudire la richiesta, è stato stravolto il protocollo e lo speaker ha dovuto dire alle due misse pronte a omaggiare il vincitore con dei fiori e tradizionali bacio che non avrebbero dovuto avvicinarsi.